Siamo a Pescia, stavolta parliamo di arcieri, di tiro con l'arco, non lo facciamo per il palio che purtroppo quest'anno è stato tra l'altro anche annullato, ma per le gare agonistiche. Su tutti il nome sicuramente che qualcuno si ricorderà e si ricorda perché sta tirando tuttora, quello di Sergio Pagni, più volte campione del mondo e vincitore anche di Coppa del Mondo. Poi Luciana Pennacchi che è stata anche lei campionessa del mondo, Paola Sacchetti che è stata bronzo agli europei e più volte in maglia nazionale e tanti altri nomi. Quello che più conta è che la società pesciatina ha oltre 100 iscritti, Presidente, per il tiro con l'arco mi sembra quasi un record. Sì, sicuramente è una delle società più grosse anche a livello regionale, il fatto che anche il Comune stesso ci abbia dato la possibilità di poter usufruire di un ambiente così grande lo dimostra e effettivamente come potete vedere anche dalla quantità di bersagli che sono messi a disposizione dei nostri soci si vede che la frequenza su questo campo non è indifferente. Fra l'altro è una piccola notizia, ci stiamo attrezzando per vedere di acquisire, proprio per dare il massimo ai nostri soci, ci stiamo muovendo per cercare di acquisire, non voglio dire acquistare, ma avere una palestra veramente nostra 24 ore su 24. Di tutti questi iscritti, di tutti questi arciari agonisti ci sono tanti giovani e tante donne. Sì, più o meno un 60-40, 60 maschi e un 40 femmine che comunque indipendentemente poi dalle eccellenze ci stanno dando grandi soddisfazioni sia in campo giovanile, maschile che femminile. Si tira a 70 metri e siamo in questa postazione, si tira a 60, 50, 40, si tira con tanti tipi di archi, ce li spiega il presidente ma ce li spiega in un appuntamento speciale, in un servizio speciale che andrà in onda in uno dei prossimi sport d'estate.